Caro Mattia e tutti voi ascoltatori della Ciotaciara, la vita sullo scavo è difficile e non pensate mai il contrario. Ce la vediamo con ogni tipo di problema tutti i giorni, tutto il giorno, dalla mancanza di acqua calda, la mancanza di voglia, soprattutto la mancanza di voglia, e l'incompetenza di chi mi fa ciao dietro la telecamera. A volte però ci sono anche momenti vuoti in cui si rischia di finire in catalessi, tipo oggi perché siamo sulla chiusura dello scavo. È dura vivere sullo scavo, gli archeologi sono dei duri, non pensate mai il contrario. Roberto Out.